A cento anni dalla tumulazione del milite ignoto, il Comune di Teramo gli ha prima conferito la cittadinanza onoraria e oggi, per ricordarlo, ha consegnato una targa al Comandante Provinciale dei Carabinieri. Sì, tutto il Consiglio Comunale, interpretando i sentimenti della città, ha conferito la cittadinanza onoraria e la figura del milite ignoto, nel centesimo anniversario della sua tumulazione, ma per un significato molto importante, non solo aderendo ad un'iniziativa nazionale, ma per ricordare una figura cara che ci consente di fare memoria, non solo sulle tantissime 650 mila vittime del primo conflitto mondiale, ma per ricordare tutti coloro che hanno dato la loro vita per il destino collettivo di tutti, soprattutto coloro che sono rimasti senza nome, non possono restare senza memoria, soprattutto per il rispetto delle lacrime delle tante madri, le mogli, i figli che comunque hanno pianto persone che non sono più tornate. Ed è anche e soprattutto però l'occasione di ribadire con forza la contrarietà a tutte le guerre e soprattutto l'obiettivo della pace ovunque e sempre. Deve essere l'obiettivo che tutte le istituzioni territoriali, politiche, al di là dei confini devono porsi. Lei, Comandante, ha ricordato la storia del milite ignoto che è bellissima. Sì, è una storia bellissima e molto commovente. Inizia più o meno dal 1921 quando il Parlamento degli Anno decise di tumulare uno dei 200 mila soldati caduti al fronte, non identificati, dei 650 mila caduti, presso l'altare della patria. La scelta ricadde su 11 salme che vennero recuperate senza nome nei campi di battaglia e fu affidata alla signora Bergamas, che era una donna di gradisca di sonso, il cui figlio aveva disertato l'esercito austro-ungarico perché irredentista trientino e si era ruolato in quello italiano e nel 1916 era caduto. Una volta scelta la salme, la salme fu trasportata con un convoglio ferroviario appositamente progettato a Roma e durante gli 800 chilometri ci fu una fortissima ondata emotiva che coinvolse decine di migliaia di cittadini italiani che si assieparono non solo alle stazioni, presso le stazioni ferroviarie, ma anche lungo tutta la via ferrata fino a Roma. E 350 mila italiani attendevano il ferro in occasione della sua tumulazione.